Oggi andrò a sfidare ogni rank di Fortnite con uno di vita, le regole sono semplici. Il primo che arriva a tre vince e se il mio nemico dovesse avere la meglio non posso più proseguire in tutta la sfida. Il primo rank che dovrebbe essere il più facile è bronzo e si tratta proprio di sfidare un mio iscritto. Chi sarà un mio iscritto voglio vedere ragazzi quanto siete forti, sei pronto? Nato pronto. Oh, nato pronto, lo vedo, lo vedo, lo vedo già abbastanza carico. Allora, non voglio subito pushare, stare a spammare, stare qua a fare tutte le cose. Voglio evitare, infatti raga, magari qualche colpettino tipo così. Ecco, vedete, lo posso sparare. Ok, 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 bom, dai. Già il primo round direi che è andato, ma dato che non finisce qua ragazzi, è il primo che arriva a tre. Infatti in questo momento sono uno raga, lo devo battere ancora altre due volte. Cerchiamo di farlo abbastanza velocemente ragazzi che voglio arrivare ad Arrial. Tra l'altro poi raga vedrete chi c'è effettivamente ad Arrial. Dai, dai. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Quindi, 1-1 ragazzi, ma adesso non ce l'è più per nessuno. Dai, va bene, mi impegno. Non è che mi impegno, dai, me la gioco abbastanza bene adesso. Tipo faccio... Eh, vedete, quel colpettino, questo qua non era neanche spammare. 2-1 ragazzi, cerchiamo di andare a vincere anche la terza. Ed eccoci qua signori. Ebbene sì, 3-1. Complimenti al bronzo, anche comunque è riuscito a battermi ragazzi. Ma passiamo all'argento. Il livello si sta intensificando, infatti adesso dovremo affrontare un oro. Ma preparatevi a coloro che verranno dopo. Signor Black, ti ho chiamato perché oggi voglio capire effettivamente chi è il più forte tra noi due con uno di vita. Sfida bella e interessante, eh. Molto interessante. Dai, iniziamo subito che ti voglio spaccare il culo. Oh, bro, lo stavi ricevendo la pompata, eh. Vabbia. Mi dispiace, ma no. All go, let's go. All go. E comunque, 1-0 per me, devo dirti una cosa, Black, per adesso stai durando di meno di quello di prima del bronzo, che era appunto il rank più facile. Allora, c'è da dire una cosa, signor Black. Allora, ma tu stai facendo, scusami, le tue, le tue torre. Cos'è che stai facendo qua, zio? Ma che è? Eh, le torre più grandi d'Italia, dov'è che sei? Eh, ho notato, ho notato. Allora, fammi fare una roba. Intanto io ti distruggo subito qua. Cacchio, cacchio. Non provare, non provare a fare le tue solite giocate, per favore, evita. Che intanto, qua ragazzi, io posso dire una roba che ho mezzo barato, ho preso qualche punto vita in più, eh. Prima era 1, adesso invece... No, eh, guardalo, spammone, guardalo. Guarda, guarda, boom! Signori, quel colpo che tanto basta per distruggere. Eccoci qua, sempre il primo che arriva a 3 e niente. Eh, Black, c'è da dirti una cosa, che ti sto totalmente annichilendo, male. Pensavo che potessi durare di più del... Degli altri, di quello che ho fatto, ma per adesso sei quello che sta durando un po' di meno, eh. Eh, allora, sto avendo un po' di problemi. Poi, soprattutto te che sei un fenicotra, mamma mia, mi distrai come... Oh, oh! Ma guardate questo! Ascolta, ascolta. Sono Spuderman! Spuderman, ascolta, fai una cosa. Dai, voglio provarla solo di piccone, raga. Voglio provarla solo di piccone. Adesso che, sì, sì, adesso che te l'ho detto, magari te potresti anche usufruire delle armi che hai. Io intanto faccio così. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, zio, vieni qua. Vieni qua. Mamma mia, è finita! Giuro, giuro che è finita! Vieni qua, zio! Ok? Ok? Dai! Ti ho qua! No! Va bene, va bene, 2-1, ci sto! Mamma mia, ragazzi, combattuta questa qua! Oddio, combattuta, vabbè, per modo di dire si fa combattuta. Oh, guarda che io non temo, eh. Io non temo nessuno. Oppure rispetto per nessuno, paura di tutti. No, vabbè. Oddio! Sei sopra? Ma di quanti qua? Mi hai qua? Oh! Ma guardate! Zio, non vale spammare, non vale spammare. Non ci devi provare. Vabbè, solo per te, solo perché ti voglio male, dai. No! Eh, niente, sono un pirla, ragazzi, sono un pirla. Niente, dai, blecco, ho fatto la cagata, me la sto rischiando, è vero, però direi che è arrivato il momento definitivo. Di? Di? Dai! Dai, zio! Mamma mia. Eh! Eh, ok. Mi sono un pochino impegnato alla fine, raga, lo devo essere sincero. Ha tagliatato il bastardo. Ma per il rank platino, ragazzi, me la voglio giocare in un'altra maniera. In questo momento sono con Lollo e ti voglio sfidare, Lollo, in un rientro 1v1 kill race. Sei pronto? Non hai capito? Non sono Lollo, sono un killer oggi perché mi mangio tutti. Oddio, mamma mia, brutto come la pece sei. Ma che... Aspetta che trovo la macchina. Dovai, chiamami Lollo, aspetta, chiamami Lollo. Ok, è arrivato Lollo, scusa, c'era un killer prima. Allora, allora, ma chi era quello di prima? No, c'era uno con una maschera tutta strana, non ero io, giuro. Ho capito, però io devo fare... Vabbè, fa niente. Ascolta, Lollo, molto importante. 1v1 kill race. Tanto già lo sai come funzionano le kill race. Si può respawnare perché appunto siamo in rientro. Ma se mi dovessi battere tu non posso più proseguire durante tutto il video. Quindi non ti dico di essere calmente, ma ti dico di non impegnarti troppo esageratamente. Perfetto, ho già capito, faccio tutte le kill e io non ti preoccupare. Vai. CG. Intanto è un cecchino che vorrei molto, eh. Ti dico la più sincera delle verità. Mi dispiace, ma purtroppo penso che l'abbia trovato io, quindi lo tengo. Ok, aspetta, 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 ci sono delle persone. Dove, dove, dove? Tu non sei quello che ho appena visto. Tu non sei quello che ho appena visto. No, 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 non c'è nulla. No, no, no. Uno. Aspetta. Cos'è uno? Uno. E aspetta. Cosa stai facendo? L'ho missato. Aspetta. Cos'è che hai fatto uno? Aspetta, adesso vedi. No, 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 no. C'è un gran problema. C'è un gran problema, Lollo, ok. Allora, meno male che non siamo in classificata perché io sono Unreal. Ciò mi potrebbe comunque portare a un vantaggio. Perché di per sé Unreal è il più forte. Non so se giochi le classificate. No, 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 direi di no. Direi di no. E il mio livello è veramente... Ma da me, da me, da me due, da me due. Quanto codo se muori. Uno, fatto uno. Morti due. Let's go, baby. Let's go, baby. Da che andiamo, raga? Due kill, due due. Dai, hai già pareggiato, ma non vale. Vabbè che i miei erano completamente immobili. Ma tu non hai visto cosa ho io, Lollo, cazzo. No, non l'ho visto, non me l'hai fatto vedere. Sai cosa c'ho? Sai cosa c'ho? Troppo lo fa vedere. Grande. No, c'ho il fanteria epico, ragazzi. Una delle mie armi preferite. Ero molto tentato di dirti. Eccolo qua, guardalo, guardalo. Il mio ca... Però era troppo classico. Dai, guarda che ti regalo. Dai, vieni. Che mi regali? The band. Eh, ma è grande. Ascolta, Lollo, dai che qua ci sono un po' di persone in giro. Voglio evitare di far bagianate. Andiamo a pushare. Che qua il tempo non è tanto. E soprattutto devo vincere. Comunque tu hai fatto due kill, due fermi. Io ho due che erano appunto due contro di me. Pensate che storia. Se tu non lo dici però in giro che erano fermi, nessuno lo scopre. Perché lo devi dire? Che erano fermi. Grande, grande. Non è colpa mia. Sembra la tua visuale nel video che si vede. Perché si vede. L'ho anche missato due volte. Ma quello è un problema. Lollo, Lollo da me. Lollo assolutamente da me. Mi devi venire subito ad aiutare. Se no... Non li vedo. Ti denuncio alla polizia postale. Sì, li ho visti. Aspetta che li buscio subito da solo. Perché sono il più forte d'Italia. Ma che... Ma ancora non sono scarsi questi qua. Che fai? Eh ma io sono il più forte d'Italia. Oddio, stavano andando a lama. Stavano andando a lama. Ok? È uno... Credo sia uno solo, eh. Infatti l'ho tirato io perché sono il più forte d'Italia. Non ho parole. Non ho parole. Perché ragazzi? Perché? Ma un abbo nei commenti, grazie. Ma perché? Ma io dico... Ma perché questo qua non poteva fightare a me? Avrei preferito. Eh ma bro, la sfida la devo vincere io in qualche modo, no? Ci buscano anche. Ascolta Lollo, dai. Allora, ti devo aiutare. Kit, qui c'è un tipo sopra. Sai perché c'è un tipo sopra? Sai cos'ha? Che fine fa quel tipo sopra? Che fine fa? Lo sai? Lo senti questo rampino? Lo sento bro. Oddio mi ha aperto. Oh no, non ho parole Lollo, 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 Lollo. Non mi faceva sparare. Non mi faceva sparare, non ho parole. Sai che i nabbi dicono tutti così? No, 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 no. Allora, allora, mi curo. Io te ne devi un attimo andare. Te ne devi un attimo andare. 9, 8 secondi. Devi stare un attimo lì, fermo. Oh mio Dio, oh mio Dio rogo. Brutta situazione. Brutta, bruttissima situazione. C'era una regola per chi moriva. C'era una regola per chi moriva Lollo. Ma meno male che non la sono dimenticata, ecco. Sta qua. Aspettando. Dove? Ok. Ok. C'era una regola per chi moriva, quindi devi fare qualcosa. Adesso lo fai. No, 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 no. Ma va, che regola? Io non ho nessuna regola. No, 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 io. Ma che cacchio dici? Ma va. Io mi ricordo che l'hai detto. Cioè l'hai appena detto, quindi immagino che tu qualcosa debba fare. Comunque, andiamo avanti. Andiamo avanti che ci busciano. Ok, c'è un tipo là. Ma basta, ma mi sono rotto le palle. Mi sono rotto. Un HP fisso sto. Non ho parole. Lollo, no, no. Mi hanno preso pure la mia arma. No, 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 no. 44? Aiuto! Devi restarti, ok, devi restarti, devi restarti. Restati ora, velocissimo. Sì, sì, ho fatto, ho fatto. Ok, 13, 12, 12. 10 secondi, resisti. 11, 12. Campera come uno schifoso magliale di culo, di figa. No, è abbastanza esagerato. Aspetta, ok, c'è del loot nel tuo corpo, spero. C'è tutto. Ok, ok, se ne stanno andando via. Se ne stanno andando via, ma me ne vado via anch'io perché non me... No, 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 no. Lollo svia, Lollo svia. Lollo deve andare via, deve andare assolutamente via perché... Sto correndo con un caimano e non so se i caimani corrono, quindi è abbastanza un problema. Ok, ok. Ma c'è un nemico qua. Ok, 7? L'ho fatto un 7 bianco, l'ho fatto un 7 bianco, con la lì e le macchine. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, zio, non me la deve fregare Lollo. Però c'è un nemico... C'è un nemico nel camion di... C'è un nemico camperato nel camion. No, mio Dio, non ci voglio credere, Lollo. No, non hai vinto, non hai vinto. Quanti kill hai? Due. E io ce ne ho tre. No, perché bisogna andare al prossimo round. Erano due le partite, ho capito. Ah, capito, mo' inventa la scusa perché aveva perso e quindi va bene, andiamo. NEMICO! Lollo, no, 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 Lollo, non può essere vero, per favore. Te lo vengo subito a killare, non me ne frega. Vieni, vieni, rubalo, no. Ti prego, aiuto. No, wey, non ho capito. Non ho capito, hai ucciso. No, no, veramente. Scusa, boh. Non ho parole, no. Guarda, pure il pompa mi hai rubato. Allora, Lollo, c'è un gran problema. Stiamo 2-0 per te, se non lo sbaglio, perché adesso stai avanti di due kill. Io prima ero due, tu a tre, adesso ne hai fatta una, quindi due. Sì, 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 sto avanti di due perché sono fortissimo, vai. Allora, questa è la mia ultima possibilità, quindi se muoio è finita. Se muori anche tu, cioè, se moriamo insieme vorrei dire hai vinto tu, ecco. Ma sappiamo benissimo che sono più forte e vincerò io, non ti preoccupare. Bro, 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 ascolta, il problema è che poi non posso più proseguire. Stai ancora feitando? Ma tu dove le trovi le persone? Ma io le cerco, bro, perché sono un killer oggi, te l'ho detto all'inizio video. No, no, no. Hai il killer instinct, te lo dico io. Vieni qua. Ok, è mio, è mio, non me ne frega, ragazzi. Ok, mamma mia, signori, la kill. Tra l'altro era full vita, Lolo, quindi non gli hai tirato mai una bega. No, 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 c'è il video, c'è la clip. C'è il video, c'è la clip. Ok, vabbè, sta di fatto avanti tipo 160 di vita. Comunque, persone, sono finite di per sé? Adesso sì, purtroppo. Ok, ok, sei ancora in vantaggiato di uno. Va bene, ragazzi, è appena iniziata la partita. Quindi, per quel che vi posso dire, ci sta. Ma tu sei solo in 12. Ma? Oddio. Ma inizia adesso la partita. Com'è possibile? Siamo pochissimi. Ma è io, così vinco. Ma se si uccidono tutti da soli, vinco io. Ragazzi, una cosa Lolo non ha visto, ovvero delle persone qua. Lolo ancora non lo sa. Ma sì, vai, vai, tu fai da fuori safe, vai, vai. Sì, 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 sto andando assolutamente fuori safe. Anzi, non vedo proprio l'ora di andare fuori safe per una golosissima kill. Ah, ma ho visto, ho capito. Boom, 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 boom. Aperto. No, non ho parole, ragazzi, non ho parole, veramente. Io, questo qua, veramente, non ho parole, non ho. Ma me lo rubo, ragazzi, non avete idea. È la mia kill. No, ho un altro team. No way, non ho parole. Non ho parole. Lolo è la mia, lolo è la mia. Lolo è la mia. Ok, per favore. Allora, non rubarmi lo scar, ti chiedo solo questo perché l'ho uccisi entrambi io, quindi... No! Ma zio, mamma mia, il pompa, vabbè, vabbè. Allora, ascolta, qua c'è del loot, Godo. Ho trovato il mio pompa, quello che mi aveva appena rubato, questo qua è karma. Allora, ascolta, velocissimo, ti devi fare subito intanto il medikit. Vabbè, diciamo che sto a giocata forte, cioè un minimo so come si usa. Ma come, veramente, lolo? Comunque, l'ho recuperato, attenzione. 3 a 1, signori, il comeback del Powa. Siamo 3 a 1, eh. No, 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 non siamo pari. No, non siamo pari, scusa, quando mai siamo pari? Eh, prima eravamo 2 a 0, poi ho fatto una kill 2 a 1. Vabbè, stai avanti di 1, stai avanti di 1, stai avanti di 1. Non ti casare perché qua la situazione la vedo. No, anche perché qua ci sono un sacco di persone che mi hanno fatto anche abbastanza male, quindi... Oddio, c'è uno col cavaliere nero, come te, lollo? Eh, ma non sarà mai forte quanto melbro. Adesso io me ne vado, regà. L'unico grosso problema è che non ho materiali. Dov'è che sono, lollo? Oddio, ma è qua fermo! No! Sì, 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 signori, sì, signori, sì, signori, bellissimo pure. Dai, rubato pure il cecchino. Mamma mia. Eh, beh, per forza, scusami, do posta kill qua, raga. 4 kill, 4 kill per il Powa. E stiamo a 4 a 1. Mamma mia. Stiamo a 4 a 1? Sì, stiamo a 4 a 1, ok. Sì, stiamo a 4 a 1, sì, non vale. Ok, allora, tu non hai visto un'altra persona? Tu non l'hai vista? Ma non hai visto neanche questa cecchinata? Mannaggia. Tanto così, eh. Sopra di te, lollo, comunque, se vuoi... Oh! Se vuoi darmi una mano. No, no, ok, lo vedo, lo vedo. Bro, bro, io sto cucinando. E cos'è, quello con la skin del cristallo o è l'amico? Non lo so. Ah, mi ha sciolto. Ok. Morto? Incredibile. Ok, c'è l'amico, c'è l'amico, c'è l'amico. Vabbè, tu fai dall'amico, io mi curo. Ok, fa chi è la raga, ok, questo qua ne sa, questo qua ne sa. Uo, mi raccomando, signori, codice Powa, nel negozio getti. È l'unica, eh. Ok, incredibile, stai fai dando du quelli sparano a me, cioè, non capisco. Né, si sparano a me, infatti ho visto come hanno sparato a te, Lollo. Guarda la mia vita. Vai, 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 la fai, tranquillo. Ehi, oh, ma guardate, sto giocando da solo questa cauna solo, versus duo. Ma da una parte è giusto così, no? Lo stavo dicendo, ragazzi, mi raccomando, codice Powa per Super Max Support. Super Max. Non so cosa ho detto, ma... Ma che stai ubriaco, Powa, ragazzi? Ma dove stanno? L'ho visto io? L'ho visto io dove stanno? Il Powa, ragazzi, manca ogni colpo, questo cecchino qua. Non datemelo che è guai. 116 invece no, in volo, incredibile, 116 in volo, per nulla male. È là che si sta curando? Ok, 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 ok. Allora, è interessante la situa. È tornato giù? 35 è craccato? È il momento del comeback. Ok, ma... Vieni, vieni, Powa. Guarda sto pezzo di... Mamma mia, che schifo che mi fai! Che schifo che mi fai, guarda questo qua. Eh, ho capito, che posso farci io? Dimmi da te. Mi faccio questi due mini, nel frattempo non ho neanche roba per andare in safe, raga, ma intanto mi sono fatto un'altra bella kill. Super... Bro, muoio sicuro. No, 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 Lollo, non muori. Perché c'è il Powa con un 290 in testa, incredibile! Bravo, io vado via. Ok. Ok, nel frattempo... Mi piace scappare come un ratto. Peccato che questo qua si riuscirà a... Riuscirà a riprendere la sua vita, perché... Uda me, un altro. Ok, arrivo Lollo, arrivo, 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 devi darmi un attimo, un secondino. Ma toglie due, non è giusto! Oh, oh mio Dio, ok, che faccio così, perfetto. Lollo, ci sono. E vai! Dov'è che è, dov'è che è? Beh, è andato via. È scappato il tacchino. Ok, prova a fare quella killa. Sì, sì, era proprio un tacchino lui. Te lo dico io che era un tacchino, per non dire altro, perché non posso dire altro, posso dire... Ma tu devi farti solo nella partita di prima, Lollo, fammi capire, ti sto letteralmente salvando il culaccio. 116. Adesso, culaccio a me non me lo dice. Se ne sta scappando, Lollo, se lo riesco a prendere in volo, mi faccio papa domani. Davvero? Cioè, papa, prete, volevo dire, no, perché papa è un po' difficile, però... Ah, non si sa mai. C'è un migo qua, non decidi di prenderlo? L'ho visto adesso, stai calmo, bro. Che questa partita, se vinciamo, mi dai 100 euro. Sei tu che mi devi dare, Lollo, 7 kill su 8. E, Natu, c'è le armi che sparano, io no. No, no, le due infatti sparano, scorreggile due, esatto, vero? Ho notato. Ok, allora, ho visto che c'era il... Il cavaliere nero, quello che ho ucciso un bel po' di volte, qua nei dintorni. E, appunto, dovrebbe essere bianco. Brother, 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 brother. Ma c'è un tipo là, c'è un tipo là? Fermo, 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 aspetta. Ti faccio vedere una cosa e tu mi dici non è vero. Ok, vai. No, togli questo. Guarda lì. Guarda lì. No, no, ok, Lollo, non è vero. No, no, Lollo, non è vero. Ok, dimmi che non è vero. Dimmi che non è vero. Dimmi che non è vero. Ok, vai, spacca. Spacca. Spaccata? Ok. Eccoli! No, quasi! Dimmi che faccio due kill. Cosa ho fatto? Oh mio Dio. Cosa è che hanno fatto? Come si sono salvati? Ci sono salvati? Eh, mi sa che avevano i... Pusciamoli, non hanno nulla. Pusciamoli. Eh, no, bro, guarda la mia vita. Qualcuno mi ha appena cecchinato e non è una cosa bella. Sto messo abbastanza male, Lollo. Ah, sto pusciando da solo, quindi. Meno male. Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Sì, vabbè, quanto impulso c'ha sto topo di fogna? Eh, veramente, ok, qua lo puoi dire, è veramente un topo di... Eh, quello lì, sì. Ah, un'altra volta scappa lui. Bravo! Ah, no, 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 ok, niente, ma ho fatto niente, ma ho fatto niente, ma ho fatto niente. Bravo! Ma dov'è che è andato? Ah, ok, l'ho visto, l'ho visto. Il problema è che, raga, io ho super poca vita, eh. Io ho pochi materiali, ma adesso faccio questo e mi prendo tutti i materiali. Ok, Lollo in due, dobbiamo pusciarlo, eh. Eh, sì. Ma lui tanto scappa perché è un topo. 19, 19. Ok. Preto il medico. Mamma mia, distrutto! Salva 95! Incredibile, ragazzi. Vai, prendi tutti i materiali di voi. Oddio, sceldini, sceldini, sceldini. Questi mi servono assolutamente, sei sceldini. Ah, è mega male. Lollo, è arrivato il momento. Non ho i materiali. È arrivato il momento di vincere la partita, Lollo, per favore, facciamolo per il video. Facciamolo per il codice Powa. È un sogno. Uh, mi sono rifucillato. Appena ho detto quella roba lì, Lollo, guarda la mia vita. Ho preso una super cecchinata. No, non è che devi vincere la partita. È davvero lui il vostro streamer preferito, ragazzi. Oh, ma che spavento, mannaggia a lui. Allora, c'è uno con lanciarazzi. Ma mi sa che sai chi è che sono? Quei due che prima hanno... Stavano facendo la skybase. Orco, mi sa di sì. Sì, avevano due lanciarazzi i falliti. Eh, ciao. Allora sì, ok, guarda l'ho visto. Ma io guarda che cos'ho. Io guarda che cos'ho, bro. Cos'hai? Cos'hai? Il fucile da caccia, bro. Ok, ottimo, ottimo. C'è l'altro tipo che è là. Ok, ok. Allora, stanno entrambi con i cecchini. Entrambi con i lanciarazzi. Cioè, questi casi sono proprio rifugiati nel camping. Guardala. Guardala, Lollo. Eh, fuck, raga. Guardateli, guardateli. Sono un topo di fogna, di ratto, di... 116. 116 a 1. 35 ancora. Un HP morto. Morto 1, morto 1. Ti fa l'ultima kill, vince. No, non vince tutto. Anzi, va bene. Vince tutto. No, 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 non va bene. Per nulla, non vince niente. Ma Lollo, a parte che poi fu il vita, eh. Non vince niente, va bene, va bene. Come vuoi. Tanto ho vinto comunque, Lollo. No, no, no. 116. Non lo abbiamo, no. Eh, signori, il Powa la distrugge così completamente. Insieme a Lollo, con l'aiuto di Lollo. Ma nel frattempo, Powa la rimonta. Così, signori, possiamo proseguire. Grazie, Lollo, per l'1v1. Alla prossima sfida. Signor Ref, ho deciso di sfidare proprio te in questo 1v1, un HP. In questo caso, tu sei diamante. Come te la cavi con gli 1v1? Non gioco a Fortnite da tre mesi. Dico tutti così, dai, muoviti. Facciamo 1v1, va, che sennò qua ci addormentiamo. Allora, ti dico già una cosa. Oggi ho giocato abbastanza bene questi 1v1. Però dopo... Bene, io penso che sono partito già di merda. Ah, eh, ho notato, però ti stai ricostruendo da solo. Sappilo bene. Con una pompata muori. Cioè, letteralmente, con uno sputo muori. Anche con una picconata. Con qualsiasi cosa, tu muori. Quindi... Quindi te la devi giocare abbastanza... Hai ragione. Di box... Beh, tu te la puoi giocare... Però dico, ok, di box, va bene. Giusto giocarsela di box. Ma non starsene fermo, sennò che cacchio è? Dai, ti sto spettando. Lo so, refe, lo so, lo so, refe che stai giocando così. Perché vuoi vincere, te la stai tryhardando. Stai tranquillo, lo so, lo so molto bene. Dov'è che sei? Scoprilo. GG, guarda che mi sta dietro adesso. Dove stai, signor refe? Mamma mia, arrivo giù a distruggerti, arrivo. Oddio. Nooo, che bello, bravo, bel riflesso, eh. Bel riflesso è anche il mio, eh. Ok. Oh, ecco lì, guarda, no, pensavo fossi più in alto, te lo giuro, oddio. Oh, no, t'avevo preso, t'avevo preso e hai messo il muro all'ultimo. Ok. Mannaggia, refe. Bella stai, mamma mia, ok. Tu si vedi già il livello, ragazzi. Già il livello è cambiato. Nulla da dire, ma già il livello è... Nooo. Let's go, let's go, che pic, mamma mia, let's go. Bravo, bravo, nulla da dire, bravo. Questa è stata una bella giocata. Refe, allora, io non te l'ho detto, è il primo che arriva a tre. Quindi io per adesso ti faccio i miei complimenti perché per nulla male, complimenti. Vai, ci sei? Adesso perderò. Cioè, per forza adesso perderai. Guarda, adesso l'ha detto, ragazzi, vince 2-0 per poi farmi il 3-0. Oh. Bastato, ha messo prima lui. 1-1, ma è giusto. Ok, 1-1. Ma io non mi aspettavo nient'altro da un fenicottero. Eh, da un fenicottero. Guarda che il fenicottero qua ne sta, si è allenato. No, non è vero, mi sono allenato, no. Però sono arrivato al real e al rientro. Su rientro sono al real. Eh, è vero, è vero. Che tra l'altro, una cosa che fa anche ridere, raga, che oggi sfideremo la real, che è ferro. Però dovrei essere io la real. Invece no, invece mi sono messo champion perché reputo ferro quasi al mio pari livello. Non che tu non lo sia, Refe, però ecco. Però c'è da dire che ferro si impegna un po' di più. Questo sì. Ok, oh. Adesso, ragazzi, che ho sentito queste parole. Ah. Eh, Refe, 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 Refe. Lo so che lo vuoi fare, lo so che lo vuoi fare, fallo. Ah, fuck. Volevo farlo, ho editato, ma, cioè, ho editato, ma l'ho fatto apposta, editare così. Ok, 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 ok. Non posso più fare la roba di prima, raga, che, se no... Eh, fuck. Mannaggia, Refe. Take it, ragazzi, io posso essere ucciso da uno che si nutre solo di hotpot. Ma che cazzo vuoi? Cazzo vuoi da me che mangio i hotpot? Sto vuoi comunque, ve li consiglio, eh, non vorrei dirlo. No, no, sto vuoi, sto vuoi, ho provato anch'io. Guardalo, guardalo, guardalo lì dietro, il pavimentino. Ok, ti... Oh mio Dio, Refe. No, era lì, era lì, era lì. Eh, lo so che era lì, lo so. Infatti l'ho visto all'ultimo, mannaggia a me. No, sono uno scenic. Volevo, rifacciamo, rifacciamo. Iniziamo, iniziamo, va bene, va bene. Ok, allora, Refe, mi viene fatta ripartire, ma qua intanto io voglio, voglio vincere la preforza. Perché non è che posso arrivare a Unreal, che son morto, capito? Ok, 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 ok. Eh, ne sai, Refe, ne sai. Eh, bella giocata da parte... Eh, l'ha giocata anche da parte del Powa. Non mi ha messo in uno, due, uno. Incredibile. Refe, eh, 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 ce la stai giocando, ce la stai giocando. Per niente male, bravo. Vieni, vieni. Ok, devo riuscire a farlo questo. Ok. Non posso sbagliare come prima. Sai che mi fai veramente paura con quella skill lì, zio? Non sto scherzando, cioè, credo che... Non mi vedi, eh. Se te la guardo ancora, scappo veramente. Ok, bravo, inizio a scappare allora. Ok. Mio Refezzino. Nel frattempo, raga, mi raccomando, codice Power in negozio getti, se volete supportarmi. Veramente tantissimo. No, ho sbagliato, ma io faccio comunque delle cose strane. Sì, sì, ma ti stavo vedendo, ti stavo vedendo, tranquillo. Ok, sai cosa faccio? Io me la rischio, raga, me la rischio, faccio così. Ok, e vengo da te, ti pusho. Diretto. Ok, vieni. No, non sto. Ok, signor Refe. Oh, mio Dio. Che signori. Questo è stato un bel flick. Ho proprio letteralmente mostrato il visuale su di te. Signor Refe, è stata una grande partita, una grande battaglia, ma adesso direi che è arrivato il momento del solo e unico inimitabile. Aiuto, a me stai seguendo un felicottero, via. Aiuto, via, signor felicottero. Signor Ferro, pronto, carico, si parte perché tu sei la real in questa partita, in questa sfida, in questo video. Sei il giocatore più forte e sei anche il più, quello che diciamo, mi darà più filo da torce, non sbaglio. Com'è andata per ora con gli altri? Allora, ti dico la verità. Ti dico la verità. Poteva andare molto peggio, ma ho perso solo una volta. Quindi... Oh, mio Dio. Eh, sì, 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 sì. Tra l'altro mi è andata anche di sfiga perché comunque è un HP, eh. Allora, dov'è che sei, zio? Dov'è che sei, zio? Eh, io sto sopra. Annaggia te. Sono con un po' di pre-fire, sto... Oh, quasi, mamma mia. Farlo con un XP, eh. Ok. Un XP? Un XP, un punto... Ah! Un punto saluto, un punto rito. Ah, no, è vero. Mamma mia, signori, let's go. Questa è la mossa, ragazzi, che oggi sto facendo un sacco, vi giuro, superforte. Eh, beh, bella, eh. Sei abbastanza infame, eh, onestamente, perché star lì boxato chiuso e fare il flick c'è è la cosa più facile. Ferro è abbastanza da infami, però vai, si riparte. Alla fine, esatto. Comunque, Ferro è il primo che arriva a tre, quindi io in caso ne vinco oltre due, ho vinto. Ma se tu dovessi riuscire a recuperarmi, ovviamente ne vinci. Eh, però, GG, GG, va bene. Mi puoi anche sparare da qua, tranquillo, eh. Quindi, ogni volta che uno cade, non si recupera. Ok? Sono molto concentrato, non so se lo stai... Ah! Stai un po' esagerando quella cosa di free che mi inizia dal fastidio. A me questa cosa dà un po' fastidio. Bravo, bravo, bravo. Ok, 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 bravo. Va bene, va bene. Comunque, ricordiamolo sempre, raga, dato che è uno di vita qua. Ogni colpo distrugge che possa essere fatto al piede, alla gamba, alla testa o in qualsiasi altro posto. Distrugge. Sì, sì, tra l'altro ho fatto undici. Mi hai fatto undici? Sì. Ma perché io ogni volta cado, mannaggia me? No, 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 no. Non mi avrai così facilmente, zio. Ok. Bellissimo! Bellissimo! Ottima, ottima giocata da parte del Powa. Ok, se la vinco, Ferro ho vinto questo. Ah, se io quanto c'è? È il primo che arriva a tre, te l'ho detto prima. Ah, mannaggia, scusami, non... Ok, ok. Vai, ci sei, quindi adesso tu comunque potresti rimontarmela, ma... Ma? Eh, no, ne sono molto concentrato, quindi devi lasciarmi... Devi lasciarmi fare. Ma sconcentrati, che tanto qua adesso va a finire... In un solo modo va a finire. Comondo, porco. Un attimo di tensione, un attimo di musica epica. Dove sei, Ferro? Oddio. Eh, io la provo così, eh. Perché? Oh, mannaggia. Ok, 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 ok. No, eh, ho sbagliato io. Ok, ho sbagliato io qua. Bravo, due, due. E quindi, Ferro, questo è l'ultimo 1v1 che potrà, potrà designare chi è effettivamente il più forte. Insieme a questo 1v1 che anche in questo video. Vediamo. Tre, due... Vai, sono carichissimo. Ti sei? Ok, ok, ok. Sì, sono carichissimo. Me la voglio giocare, ragazzi, veramente super... Sì, questa pure io adesso. Ok. Mi dispiace, ma... Con calma, con calma, con calma, con calma, Powa, con calma. Ricordati che bisogna sempre costruire il legno. Eh, mannaggia, il problema è che non ho la R. E quindi non posso spammare. Ebbene, anche perché poi se no sarebbe stato troppo facile. Oh, mio Dio, che rischia Powa, eh, sì, eh, sì. Hai fatto uscire la testolina. Hai fatto uscire la testolina. No, non l'aspettavo così. Bravo, Ferro, nulla da dire. Il rank real si vede che è anche il più forte. Quindi sei l'unico che mi ha veramente dato tanto, tanto, tanto filo da torcere.